Edder, Mech, Pallister. Salvato con una cintura di fortuna. A Firenze, un uomo di nazionalità peruviana ha cercato di buttarsi nell'Arno dal ponte di Verrazzano. Nel tardo pomeriggio di sabato 8 luglio alcuni passanti sono intervenuti per scongiurare la tragedia. L'uomo in evidente stato di agitazione, dopo essersi quasi del tutto denudato, ha scavalcato il parapetto del ponte minacciando di buttarsi. Con una cintura di fortuna, le persone a corse lo hanno bloccato tenendolo saldamente fino a quando sono arrivati i carabinieri. I quattro militari a corsi lo hanno tenuto ancora più saldamente e, in un attimo di distrazione dell'uomo, sono riusciti a riportarlo sul ponte dove, nell'attesa che arrivasse il personale sanitario, l'uomo ha continuato a manifestare l'intento di farla finita opponendosi ai carabinieri. Sopraggiunto il personale medico, l'uomo è stato sedato e ricoverato. In corso le verifiche per ricostruire le motivazioni del gesto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.